buonasera buonasera a tutti dalla ditta marrazzo come di castellammare di stad in collaborazione con la momo time nasce un grande kit per un audi a3 grazie alla momo che ci fornisce questi fantastici pneumatic top run m30 che lo stiamo mostrando in questo momento grazie ai suoi quattro canali lancitudinali sono lunghi larghi e profondi per quanto riguarda l'acqua plan della tua auto vettura e grazie a questa lamelle strette ma profonde alla tua numerosità della tua auto vettura grazie alla momo vi possiamo dare una sicurezza su strada e in collaborazione con la marrazzo come con il nostro fantastico cerchi lega rr black lucido mandato nasce un grande kit che sarebbe sicurezza su strada nel lucro la tua auto vettura quindi grazie a questi due fenomeni che sia pomo time italia e la marrazzo come abbiamo pensato a voi clienti quindi da una sicurezza su strada e una bellezza la tua vettura quindi fatto questo non deve fare altro a cavalli a 3 3 4 2 5 5 0 9 3 3 e noi due saremo a vostra disposizione detto questo ragazzi non deve fare altro a chiamarmi basta sicurezza su strada nel lucro la tua vettura barrazzo come il momo italia un bacio a tutti arrivederci buona sera